Bruciati nella notte, gli ombrelloni di due Deore in pieno centro avvigevano a essere colpiti in un ristorante di Piazza Ducale e un altro locale al Portone in via 20 Settembre. Le fiamme sono state appiccate attorno alle 2 e tutto farebbe pensare a un atto vandalico. Gli ombrelloni erano in materiale ignifugo, quindi chi ha appiccato il fuoco probabilmente si è dovuto impegnare scaldando la tela finché non è riuscito a sciogliere il rivestimento antincendio. In Piazza Ducale si è rischiato grosso, il plateatico è in legno, fortunatamente la base in ferro dell'ombrellone ha evitato che si propagassero le fiamme. Ma se qua non c'era la nostra lastra sotto l'ombrellone, qua prendeva fuoco la Piazza Ducale, non so se ci rendiamo conto o chi ci guida si rende conto della roba del genere, se qua prendeva fuoco la Piazza Ducale, cosa succedeva? Il fatto ha creato grande allarme in città anche perché è l'ennesimo episodio che certifica i gravi problemi di sicurezza del centro. I titolari dei due ristoranti sono stati svegliati in piena notte dalle telefonate dei residenti della zona che li avvertivano di quanto stava accadendo. Non possiamo noi, cioè io personalmente, essere chiamato alle due e mezza di mattina a casa con i figli a dormire. Gli esercenti di Piazza Ducale e delle vie limitrofe sono esasperati, gli atti vandalici si moltiplicano, provocano danni e non fanno vivere tranquilli chi ha un negozio o un locale pubblico. Noi abbiamo 11 dipendenti, non riesco a capire proprio, non trovo anche parole a descrivere questo atto qua. Ma se noi dobbiamo, tra di noi, a fare le notti qua, sembra una cosa assurda perché noi paghiamo le tasse, paghiamo tutto, come il comune chiede. I continui episodi di cronaca inoltre stanno creando una pubblicità negativa a Vigevano con il rischio di allontanare potenziali turisti. Uno va su YouTube, scrive Piazza Ducale. Cosa vieni a vedere? Si brucia, si brucia l'ombrellone Rococò, si tirano le sedie, come fa a venire qua un turista?